Ehi, questa situazione, vengo presente, ve lo faccio sapere, senti pure, ciao. Ehi, e allora? Urolex. Urolex. Oh, è sano! Voglio usare te caldo. Ma perché? C'è una cosa fai? E che già fai? No, non ho qua, no. All'altra direi. Tu hai spietta qua. Ma non resta cosa, non resta. C'è da me sotto su di me, per venire. Buonanotte. Magari, questo è pure tutto qua. All'euro, fin d'urino. Ma è buono, funziona. E' sei reale oggi. Non è che mi fai tu pacco. Fai sconto. Andiamo a prego. E quando andiamo posti, tu a me... Vieni. Vieni. Andiamoci. E' già tu? Pure i getto uno. E' già tu. E' tu non hai due. Hai di due. No, 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 no.